Questo video contiene alcune scende di violenza Se pensate che vi possa dar fastidio vi sconsigliamo la visione Guarda quella camicia è passata di moda 20 anni fa Sali però Ho cliccato il tasto È partito Stai calma ti prego Allora adesso andiamo in macchine diverse Dai no sali sali che questo è veloce Te lo dico già E ragazzi come va io sono Feriniti E sono Steph e chi si gioca ma GTA 5 E ovviamente siamo tornati nell'online Dato che avete appresato tanto l'idea che abbiamo avuto per questa serie Siamo felicissimi di poterla continuare Esattamente ci avete consigliato in tanti anche di fare GTA 5 vita reale la mod La mod Insomma il problema lì è che è single player Perché appunto si gioca su GTA 5 single player Quindi non potremmo giocare in due Comunque ci facciamo un pensierino E vediamo un pochettino se farlo Abbiamo anche creato la nostra crew per computer Si chiama 2 players 1 console Scritto così Siamo in 5 Che bello Quindi se avete GTA 5 per computer E volete giocare un pochettino con noi Che siamo soli soletti Non avendo il gioco per console Potete tranquillamente unirvi Cosa andremo a fare oggi? Eh devo dire delle cose io Ok Allora prima di tutto Cosa devo dire? Devo scendere dalla macchina Sì Perché mi sembra la cosa più importante Ok Perché ti sei cambiato i vestiti senza di me Perché hai fatto shopping Senza Ferenichi Perché? Dovevo spendere i soldi Per essere a 25.000 perfetti Come era deciso dal primo episodio Allora E mi sono comprato dei vestiti Allora io per buttare i soldi Che avevo in più Sono andata con l'altro personaggio E li ho sprecati Tu ti compri i vestiti Senza di me Ma non ci devi provare Non ci devi provare Spettila che è meglio Aia A calci ti prendo Non lo devi fare mai più Non lo devi fare mai più Ehi tu Ti spari in testa Vattene perché questa è una cosa importante Che gli do un cazzotto Mentre Boom Non se l'aspettava il cazzotto Fermato picchialo Prima che usi il fucile No ha ragione Gli stai rompendo le scatole Dai a calci Lo stiamo prendendo Ma dai Ma che noioso Allora Noi siamo a pugni Non abbiamo neanche una pistola Tu sei a mitra E ti nascondi Di lì qualcosa a tu Guarda che è meglio Allora Allora Sei una schifezza No perché davvero Cioè noi eravamo in due a pugni Non abbiamo neanche sfoderato la pistola Tu a mitra E ti nascondi Ma non si possono fare Steak su GTA Ma guarda come scappa Guarda Sei una nullità Comunque Siamo a dieci minuti di video Ancora non abbiamo detto Cosa dobbiamo fare Voglio dire un'altra cosa No Sono proposto i consolini La posso dire Assolutamente no Sono proposto una cosa fantastica Di farci un tatuaggio Ogni fine episodio Ok È piaciuto molto Il nostro Brothers for Life Quindi ci faremo un tatuaggio Ogni fine episodio Possiamo iniziare il video adesso Grazie Quindi un tatuaggio Al fine del video Blah 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 Oggi andremo a fare Il last team standing Che sarà una unità Molto divertente Dove ci dobbiamo sparare E roba del genere Quindi abbiamo bisogno Di un'arma E infatti siamo qua davanti Per comprarci qualcosa Buongiorno signore Ha qualche arma Che si blocca pure Ma che almeno costa qualche euro Ecco la carabina speciale 14.000 Su 25.000 Che abbiamo Oh mamma mia Qual è la carabina Scusami Non la sto trovando L'ultima in basso a sinistra Visto che ci sono Mi compro anche tutte le munizioni E dei soldi che abbiamo fatto Nello scorso episodio Sono rimasti 9.000 Ok Proprio Siamo lì lì per comprarci la casa No? Eh sì Guarda Sicuramente Ne prendiamo due a testa Oh bene bene Sono felice Siamo in 6 Il più basso di livello è 240 Ne siamo 6 ed 8 Molto divertente Ma noi con il cuore Siamo tipo livello 300 Ok Quello è l'importante Già che siamo in 6 È un miracolo Dato che siamo al pc In che squadra sei? Squadra 1 Sono totalmente da solo Vediamo cosa riesco a combinare Io mi metto dietro Questa bellissima colonna Ascolta Facciamo che io tradisco i miei E tu li uccidi Però poi li uccido a te Perché giustamente Mi prendo i soldi A sto punto Una vittoria facile no? Va bene Allora Uno sta arrivando da lì Pam 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 Ti ha già ucciso? Sì Ok Perfetto Ok ci siamo Adesso dura 4 round Però siete in 2 contro 3 Diciamo che Ho avuto qualche problemino allo stesso nel crearla Ma va bene così Sto arrivando proprio a spararvi in faccia Quindi Gli altri non ho idea di cosa stiano facendo Allora ho visto qualcuno Ci sei tu lì 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 Mi hanno cecchinato Ma ucciderti è stato bellissimo Ucciderti è stato Guarda stavo puntando solo a te Non mi interessava altro sinceramente E abbiamo perso Cioè io stavo pensando a quello di sotto E c'ero io dietro il palo Tu senza farti nessun problema Mi hai preso e mi hai distrutto la vita Certo sì 11.000 11.000 non è male Non è male per me Quasi 12.000 quindi E comunque anche se perdi Diciamo che non paga Poco 5.000 dai Non male Adesso proviamo invece con qualche missione proprio Ho trovato una missione che si fa soltanto in due Quindi ci possiamo divertire Io e te Recupero pericoloso Recupero pericoloso C'è uno per cui faccio qualche lavoretto Al premio del Axe Motorsport Che ha bisogno di un recupero Gli ho detto che sei nuovo E hai bisogno di soldi E mi ringrazierei dopo per il contatto Per il contatto Grazie Deve recuperare una Che cos'è Viola che non è stata pagata Alle Jamestown È territorio di Balla Quindi stai attento E non parlare di LD Ci vediamo Ehi chi è LD? Appena arrivi Prima cosa che dico Ho impostato la difficoltà difficile Perché ci paga più soldi Quindi Uh bello No di bello Sì 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 È molto felice Molto felice di fare qualcosa di difficile Ti riempiranno di proiettili È molto probabile Contando Le armi Cioè sono quelle che abbiamo La carabina Abbiamo solo la carabina E allora siamo messi malissimo Perché siamo partiti nella montagna? Perché è bello Ho notato adesso che abbiamo solo una vita Comunque è proprio perfetta questa missione Perché c'è Sei nuovo Hai bisogno di qualche soldo E infatti come l'ho letto Mi ci sono proprio immedesimata Perché è quello che stiamo passando anche noi Quindi capisco molto bene Capito le sensazioni Aspetta Ma non c'è bisogno di spara Eh oh Eh oh Eh oh Sinceramente poi ogni volta mi investono Siccome abbiamo solo una vita Sì nella modalità difficile ovviamente è solo una vita Quindi non posso perdere metà vita per uno che mi investe Capito? Scusi Lei ha una macchina un po' più bella della nostra Sinceramente Mamma mia che bella questa Guarda Tu non te ne fai nulla Dalla noi che la siamo bene Eppure brutto Guarda quella camicia è postata di moda vent'anni fa Sali però Eh ho cliccato il tasto E' partito Stai calma ti prego Allora adesso andiamo in macchine diverse Dai no sali sali che questo è veloce Te lo dico già Te lo dico già perché mi stai facendo arrabbiare Ok siamo arrivati praticamente a questo incrocio Sì Io sono un po' preoccupato Qua ci sarà di strano Ehi gente che ci mitraglia secondo me Hanno iniziato tutti a sparare Sono impattiti Oh cavolo Oh cavolo Dannazione aiutami Nascondiamoci da qualche parte in un muro Io mi sono nascosto Vieni 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 Ho ucciso uno Ho ucciso uno Ti copro ti copro Allora c'è uno da quella parte Da questa parte qua Sì In fronte a noi che mi stava sparando Allora aspetta Dov'è quello là davanti? Aspetta che mi tolgo dal muro Io penso a questo qua a destra Comunque è perché ho tirato fuori la pistola Forse si sono un po' agitati Però abbiamo già perso metà vita E io la vedo Ma io sono freschissima Ne ho perso davvero poca A me i proiettili fanno un baffo guarda Beata Oh ci sta sparando Disgraziato È ormai andato Ormai è andato Stavo cercando di prenderlo La strada non è neanche troppo grande Però ho il presentimento Che arriverà qualcuno a darci fastidio E infatti E infatti Guarda la macchina verde Cavolo Corro È difficilissimo Aspetta Mi prendo È difficilissimo prenderli Ne abbiamo un'altra Cerco di schivare Ok No è impossibile Stai calma Stai calma Mancherò solo 800 metri Anche perché della macchina Ho la pistola che fa schifo Lo so Non abbiamo niente una mitraglietta Noi Esatto E quindi fa schifo la pistola E sono quasi morta Ce l'abbiamo dietro Oh Fatto E adesso Credo che abbiamo perso La metà dei soldi Con la macchina totalmente spaccata Ciao bello Finalmente iniziamo a ragionare Finalmente iniziamo a ragionare Sinceramente un lavoretto facile e veloce 10.000 così Mi è piaciuto Eh direi sì Non mi lamento per niente Vero? Vero No 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 buonissimo Buonissimo davvero Poi sono a livello 10 Quindi mancano solo 5 livelli Guarda che bella macchina Che ci hanno lasciato parcheggiati qua Oh che bella Che bella Proprio sembra fatta apposta per noi Assolutamente Bellissima Bellissima Poi rossa fantastica Uh La macchina si sta muovendo questa volta Ah Non è parcheggiata Ehi Quindi stavolta dobbiamo fare attenzione Che poi prima siamo andati con una macchina bellissima Rubare una macchina bruttissima È molto divertente questa cosa Beh loro volevano quella Noi avevamo un incarico Finito Hai visto dov'è? Sorpasso giro qua Giusto? Sì 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 Giusto giusto Ok Credo che devi un attimino fare un lavoretto tu Vabbè aspetta Facciamo che li taglio la strada Ah no ma questa è una bella macchina Eh sì Scusi Scusi No si sta arrabbiando Dannazione lo sapevo che dovevamo spararlo in testa in modo secco e veloce Io ci sto provando però Attenta non rovinare la macchina Ci abbiamo fatta? Sì 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 Siedi scendi Purtroppo avrà Ma ti ha preso il piede Cioè sei volato tantissimo Sali nella macchina che ci sono gli stili Spostati Dove lo dobbiamo portare? Non ce lo dice fino a quando non seminiamo Ok allora non andare lì Però non devo incidentare Allora gli sbirri sono dietro di noi Quindi muoviti E sono anche davanti Devo cercare di andare in questa strada No ma lì è proprio dove ci sono No 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 Loro sono nella strada di destra Eh ma ci vedono Lascia fare a Stefano e spesso Ok ok ci siamo Uff Oh cavolo ne abbiamo una davanti Eh questo è un problema Abbassiamoci Abbassiamoci Io mi sono abbassata No 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 Ovviamente Io mi ero abbassata però Andata Andata ce l'abbiamo fatta Dobbiamo semplicemente portare questa macchina al concessionario Che è anche abbastanza vicino Corro Mi sembra quindi Corro Fatta anche questa missione Sì siamo dei ladri di macchine bravissimi Ma insomma Ma insomma No siamo bravissimi Guarda come l'abbiamo ridotta L'importante è portarla Vettro rotto Sportello partito Graffi ovunque Faccevano prima a comprarsela nuova Ti dico la verità Faccevano prima a comprarsela Perché guarda A livello di danni Secondo me ci spendono Tanto quanto Può rivendere giusto il motore Secondo me Il resto è bello che è andato Allora buongiorno Dobbiamo portarla sempre qui Quindi come prima Quante si ho decisato Questa è la più bella di macchine Eh vabbè Ma se gliela porti più Schiantandoti nel muro Direi che non è una cosa buona Vabbè Ciao Ah sempre lui Allora non provare a criticarci No sempre 10.000 Ah gliele portiamo sempre distrutte Neanche ci impegniamo Guarda Cioè tanto qui ci pagano sempre lo stesso tanto Ma chi se ne frega Non si sa mai fare un buon lavoro Comunque Comunque sono davvero buone Queste missioni Per farmare sogni Assolutamente sì Durano poco Sono semplici Anche in modalità difficile Sono da due Sono da due Che quindi finalmente Le possiamo giocare Senza dover aspettare altri player E comunque 10.000 Per questo tipo di missione Secondo me è davvero perfetto È il momento di andare a fare una cosa Che cosa Il tatuaggio Sì Oh che bello Il mio momento preferito Allora dove ce lo facciamo È il momento di buttare I pochi soldi guadagnati Della giornata No allora cerchiamone uno Che non costi troppo Perché non è che siamo messi così bene Io farei qualcosa Che c'entri con un auto Perché oggi abbiamo rubato due auto Allora facciamo A fine di ogni episodio Un tatuaggio a tema Perché l'altra volta Brothers for Life Era l'inizio della nostra gang Esatto Della nostra Esatto Della nostra crew Del nostro Rubare insieme Sì Della nostra avventura Adesso ci siamo voluti a rubare alcune macchine E quindi ci facciamo un bel tatuaggio Di una macchina Sono d'accordo Sono d'accordo Quando il petto Spero Una Ferrari Tatuaggi di macchine Non lo so Vediamo Spediamo Speriamo Ehi tutto ok con i lavori Ehi Ti posso far vedere una cosa Guarda Lo sapevo Scusa Cosa vuole fare Non riesce neanche a uscire Guarda sta correndo Guardalo Guardalo Ma è spaventato Guarda quello che ha saltato E vabbè Ma è spaventato E' arrabbiato E' arrabbiato E se ne vanno Guarda eh No no ferma Fermo ferma ferma Io sto Sto osservando Amico Sei scarso dai Mi sto annoiando Che poi gli altri L'hanno abbandonato Sai fare qualcosa O sei solo Uè Prese se ne vanno Te ne vai Eh no Andiamo a fare il tatuaggio Che non me ne frega nulla Di sto qua Non aveva speranze Anche se non è una macchina Però secondo me Tanto che sono tutti moto Facciamo il più carino Che riguarda le moto Ci stiamo facendo un tatuaggio Più brutto dell'altro Brothers for life Poi un teschio Con una moto Teschio pilota Si chiama Almeno non costa troppo Così non spendiamo Tutti i soldi Che abbiamo guadagnato Mi sembra Fichissimo Tra cinque episodi Sembreremo fede Secondo me Anche secondo me Cioè poi guardami A me si vede Con la camicia Cioè guardami Guarda la mia tamarraggine Sta crescendo In un modo incredibile E' vero Che da te si vede Però è carino Come ci sta Secondo me Abbinato al brothers for life Nella schiena E' carino Io sono molto soddisfatta Contenta anche di questo Tatuaggio Che comunque E' stata una bella esperienza Rappresenta quello Che abbiamo fatto oggi Quindi sono felicissima Allora Abbiamo 34.000 totale Siamo quasi a livello 11 Direi che nel terzo episodio Troveremo qualcosa Per fare sul serio Che guadagni Perché qua Almeno Road tu 10.000 100.000 Scusami Infatti non capivo Hashtag Road tu 100.000 Quindi il terzo episodio Arriviamo a 100.000 Che è importante Dopodiché Dovremmo puntare Alla prima casa Una catapecchia Brutissima Alla prima casa però E' importantissimo Allora no aspetta Devi girarti Vuoi fare il duello finale? Ok Vediamo Come te la cavi bella Vieni qua Vieni qua Ti schivo No ho sbagliato No No Ti spingo Aia A calci A calci Aspetta Ti arrendi? Arrenditi E' meglio E' meglio che ti arrendi Ma giochi solo a schivare Fai schifo Aia Comunque ci fermiamo così Per questo secondo video Di questa serie Road tu 1000 Speriamo che vi sia piaciuto Dal terzo episodio Faremo davvero sul serio Con i guadagni Quindi preparatevi E arriveremo presto Da avere anche la nostra Organizzazione Per iniziare a produrre Realmente soldi E fare le cose In modo realmente serio Ragazzi Se vi è piaciuto Dacciateci un bel like E questa è la prima volta Che vi vedete il nostro video Potete considerare Da descrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao